Allora mister, tanta rabbia il pallone non le voleva sapere oggi di superare la porta? Mi dicono che forse una volta l'ha superata, però al di là delle battute devo fare i complimenti alla mia squadra perché la vedo in crescita, dopo gli episodi hanno condizionato questa partita che sicuramente per chi non sapeva la categoria oggi si è giocata a livelli importanti. C'è sicuramente da parte nostra il rammarico, siamo arrabbiati e delusi per noi, per il pubblico perché sappiamo quanto ci teneva per la società, però noi la dobbiamo prendere come ancora una tappa di crescita perché stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista e siamo stati penalizzati da degli episodi che non sempre saranno contrari a noi. Allora mister Bagnoni, tre punti arrivati nei minuti finali ma tre punti importanti? No, super importante perché la squadra oggi ha saputo soffrire quello che non ha fatto in altre partite però cosa devo dirgli? Hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo giocato contro una squadra molto forte sinceramente molto forte e per quello che ho visto io oggi è stata una partita in un'altra categoria non c'entra niente con la promozione, una partita anche a livello tattico molto buona con due allenatori secondo me che hanno letto bene la partita, faccio comune a loro perché hanno giocatori importanti abbiamo anche rischiato di prendere gol, però abbiamo ribattuto colpo su colpo il sistema di gioco ci ha pagato, i cambi anche ma questa è una squadra, loro visto che giocavano con tutte le punte era un 4-2-4 alla fine e giocando a quattro dietro abbiamo sofferto con le mezze ali non riuscivano a rottobbiare su sedi attaccanti esterni che sono molto veloci invece mettendoci 3-5-2 e poi l'abbiamo indirizzata molto bene e adesso se meritiamo vincere questo non lo so però ci sono altre partite dove noi non abbiamo meritato di pareggiare meritiamo di vincere, abbiamo raccolto un punto invece di 3 e quindi faccio i complimenti soprattutto a tutte e due le squadre perché ti ho detto non so voi da fuori ma la partita ho l'impressione di essere davvero un'altra categoria e a livello fisico, a livello tecnico e a livello tattico grazie a tutti